Da terza città della regione ci stiamo trasformando nella cenerentola dell'intero territorio. Il Consiglio regionale Bocci, il piano della provincia, apre un tavolo di confronto con le scuole. È la richiesta del consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni, che dati alla mano, presenterà un emendamento per impedire di accorpare gli istituti scolastici. Dal prossimo anno, infatti, il Battisti perderà la sua autonomia per dar vita al polo tecnico con il Volta, Lollivetti, Senica e Archimede. Perché la città di Fano deve essere trattata peggio delle altre, si chiede il consigliere. Pesaro, che ha 90.000 abitanti, avrà 7 autonomie scolastiche. Senigallia, con 45.000, ne avrà 5. Urbino, città di 15.000 abitanti, avrà 4 autonomie scolastiche, mentre Fano, che ne ha 60.000, ne avrà 4 di autonomie scolastiche che la provincia vuole ridurre a 3. Una scelta, secondo Carloni, che penalizza i giovani studenti e la comunità fanese. Io credo che questo comportamento, questa disattenzione per Fano sia grave e che vada assolutamente corretta. A questo proposito ho presentato un emendamento in regione perché non penso che Fano meriti di essere trattata in questa maniera. Dunque, in concreto, che cosa si potrebbe fare? Intanto servirebbe sapere se l'amministrazione comunale si è mossa su questo argomento e sicuramente se lo ha fatto, in che modo, ma fare uno sforzo comune, tutti gli amministratori comunali, i consiglieri regionali eletti a Fano, affinché in consiglio regionale possa essere approvata una modifica. E in questo senso io ho trovato anche una certa disponibilità da parte della dirigenza regionale della pubblica istruzione, che evidentemente questo piano non ha tenuto conto di certe sensibilità e anche dell'importanza di Fano. Perché Fano deve perdere l'autonomia dell'Istituto Tecnico Comerciale Battisti, mentre nelle altre realtà si è stati molto più attenti alle autonomie e alle delicatezze anche storiche. Cosa si può fare? Un emendamento che modifichi l'atto quando verrà in consiglio regionale. ma mi piacerebbe farlo con il concorso di tutti.